Buongiorno Arthur, here's your masterpiece all typed up and looking good. This must be a complete surprise. Roman è un grandissimo capitano, perché sapeva benissimo la rotta, sapeva dove ci stava portando, in ogni momento aveva i compiti per ognuno di noi molto precisi e ha questa grande capacità di tutti i maestri di avere la visione complessiva molto chiara e quella del dettaglio ancora più chiara. Io adoro entrare in una foresta oscura, di non sapere dove vado, essere libera e avere davanti a me un capitano di nave che può dire destra, sinistra, più veloce, meno veloce, l'accento tedesca, l'accento ungherese, anche vietnamite c'era un momento. Ok, let's get this train. I don't want to hear another word of this Y2K nonsense. Io credo che questo è un mondo molto particolare del Roman. Palace è un albergo molto specifico e personaggi, tanti erano dei suoi amici, io credo che molte di quelle cose è una sattile di chi lui fa di quel mondo che forse terminerà l'anno 2000. Unico di vostri colleghi in la conferenza ha detto che ha ricordato di un pittaccio di Geronimo Bosch. painting and that's it maybe yeah the world is going down and and we go run faster and faster twelve hours left let's get to work everybody let's get to work the movie is is about to love so there is it's a comedy it's fun it should be fun and that's what we had while we were shooting it it's the privilege of having worked not only with them but with Mickey Rour, John Cleese, Joaquin Almeida with all the great professionals that everyone has brought a world, a different world, and has made a wonderful show. It's a new orchestra that has played very well together. such a beast without a muzzle I'm sorry sir come on you little boy